Buonasera a tutti, Mr. Fantasy questa sera, Bob Marley, Beatles, Eric Clapton e non solo, musica anni 60, 80 e anche 40 e 90, alla chitarra Alberto Lazzarini, Francesco Ceolgo nel Cacere, Claudio Canegia alla batteria, Tony Bertavini al basso, lui soffettoci, buona serata. Buonasera a tutti 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 Buonasera a tutti